bene ragazzi siamo qua con un nuovo video oggi reaction napoli sassuolo oggi ritorno in napoli al maratona ragazzi oggi c'è la seconda giornata di serie a dopo la vittoria contro il fraserone che è ben 3 a 1 da campioni d'italia ragazzi ritorniamo al maratona perciò ragazzi prima di andare a reggere al primo tempo di napoli sassuolo andiamo a vedere le formazioni ufficiali in api perché quara scheria non giocherà neanche con la natizia sarà in panchina e adesso andiamo a vedere le formazioni ufficiali e navoli allora per il nome gioca meret di lorenzo racmano guanjesus olivera anguista lobotica zierischi politano osmer di nuovo raspatori al posto di quara scheria raspatori ex della partita come politano perciò perché non può segnare lui stasera speriamo bene e niente ragazzi adesso c'è una primo tempo di napoli sassuolo speriamo di vincere abbiamo 3 punti aumentiamo e andiamo a serie e niente c'è una primo tempo di napoli sassuolo dai primo tempo ragazzi c'è un primo tempo di napoli sassuolo dai andiamo a vincere questa partita ragazzi tira ma no vado subito dai la spadu buona subito ragazzi neanche un minuto di gioco eh l'ho detto della spadu buona subito ex di partita che può fare gol bella quella volta in mezzo rigore dai 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 raga rigore vai 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 a prendere il panno del si osyman dai victor osyman vai ragazzi vai 1 a 0 bello vai le cose da grazie al portiere 1 a 0 ragazzi c'è qua primo tempo napoli sassuro napoli spettacolare questo tempo e niente ragazzi adesso c'è un assoluto tempo di napoli sassuolo grande napoli ripeto veramente ben napoli noi c'è un assoluto tempo continuiamo a giocare così che rende sassuolo poco occasioni a tutto il sassuolo e niente secondo tempo dai facciamo il secondo gol per chiudere la partita ragazzi inizio del secondo tempo dai iniziavo facciamo questo secondo gol portami inizio ma tosse ma che me ne va pagnata mamma mia mamma subito ragazzi si parte subito inizio ma che pagate e parola del fatto vista a trovare la consiglia ragazzi incredibile rigore rigore e non ci credo alla settimana regà ma di mano dai ma come vediamo un attimo è la spazzuta sicura è la spazzuta sicura è la spazzuta dai ma che combi l'aria dai dai ma ma è vero c'è la via tu qua non sbagli nulla dai però così no ragazzi ma la portata non va bene non va bene così no mi vuole sbagliato ragazzi cosa sto vedendo no vabbè no non tra che rubare la schede vai segna tu tipo tira tira si vai il capitano vai il Lorenzo vai bella raga che azione mamma mamma io era in campo il capitano unico mamma quando è forte dai lug Spit incredibile incredibile giovani di lorenzo ragazzi bello bella azione con la scheria assist appena entrato miglior campionale di serie a ragazzi ce l'abbiamo noi e da che gol l'azione migliorare le tassi per di lorenzo bello 2 0 grazie mio tira tira no come è possibile no per quel gioco allora non c'è un'altra domanda vita 2 a 0 i ragazzi anzi c'è qua la partita per 2 a 0 per il napoli che dire grazie a ricordi di lorenzo è il gol di victor ausiliano sul dischetto nel primo tempo e ragazzi bella per la partita abbiamo giocato bene consigli mettere dentro sì però va bene così da zero basta portare questi tre punti a casa e ci sta a mente ragazzi per questo video lasciate un biglietto iscrivetevi al canale adesso noi ci vediamo sabato che saremo allo stadio che annuncio a vedere napoli lazio allo storie perciò ragazzi ritorneremo a casa finalmente e niente ragazzi per questo video lasciate un biglietto iscrivetevi e niente ci vediamo sabato ragazzi la lazio che oggi ha perso pure la vendetta chissà ma ci vediamo sabato ragazzi ciao